Le università sono chiamate a definire la propria visione di futuro, la loro collocazione e il loro contributo nella complessità del mondo che le circonda. Con il suo piano strategico, l'Università degli Studi di Milano si propone un obiettivo chiaro e imprescindibile, costruire per il suo centenario una università nuova. Approvato all'unanimità nel dicembre 2019, il piano strategico nasce con tre fondamentali caratteristiche. È condiviso, generato da un ampio percorso di ascolto e confronto, riflette la natura multidisciplinare e policentrica della statale e accoglie le istanze della società civile e della comunità scientifica. È dinamico, grazie ad azioni di monitoraggio e revisione periodica, consentirà alla comunità della statale e a tutti gli stakeholder di valutare il nostro operato nella massima trasparenza. È integrato, perché strettamente connesso con gli altri momenti di programmazione, con le politiche della qualità e gli obiettivi trasversali di miglioramento continuo, con la programmazione triennale dei dipartimenti, con il bilancio di Ateneo che assicura le risorse necessarie per il mantenimento delle attività ordinarie. E solo per l'anno 2020 stanzia oltre 24 milioni di euro per il conseguimento degli obiettivi strategici. Il piano strategico fissa 32 obiettivi specifici da raggiungere nel triennio, riferiti a sei grandi direttrici di sviluppo. Favorire l'internazionalizzazione, per essere un punto di riferimento in Europa e promuovere la libera circolazione delle persone, delle idee e della conoscenza. Innovare la didattica, per rispondere alla richiesta di istruzione e per renderla sempre più attenta agli studenti e ai loro diritti. Una didattica capace di aggiornarsi e di aprirsi all'interdisciplinarietà. Promuovere un ambiente di ricerca ancora più stimolante, aperto, capace di favorire le opportunità, l'innovazione, la creazione di network e di attrarre gli scienziati più competitivi. Potenziare la terza missione e il trasferimento tecnologico, dialogando con la città di Milano e il suo tessuto economico e sociale. Essere punto di riferimento per la salute e l'assistenza nel contesto lombardo, grazie alla presenza in oltre 23 strutture sanitarie. Adoperarsi per la semplificazione, i diritti e la trasparenza, per rendere sempre più positive, responsabili e sostenibili le condizioni di studio e lavoro della grande comunità dell'Università Statale. Guardiamo al traguardo dei cento anni di vita della nostra Università, continuando a lavorare per un Ateneo inclusivo, che sappia affrontare il futuro e i nuovi scenari che esso apre, con coraggio e passione.